Sono dettati da voi? Punto F. Attraverso Francesca R. a cura di VB domanda Quei flash intuitivi in cui lo strumento consiglia ad uno di noi un comportamento, sono dettati da voi? Guida. Sono piccole percezioni che vi permettiamo di vedere. Non sono date su richiesta, ma solo quando lo strumento intuisce quando ne ha l'apertura e la percezione. Se queste sono richieste, non è detto che si abbiano. Se stimolate lo strumento, noi tendiamo a chiuderci, ma al contrario, ad aprirci e a permettere allo strumento di avere dei frammenti. Se nell'ambito di una conversazione parlate di argomenti interessanti, possiamo farvi vedere delle intuizioni. Se invece fate una domanda diretta allo strumento, noi tendiamo a chiudere la capacità di vedere. A noi serve la possibilità di apertura e non di soddisfazione della curiosità. Domanda. Cioè, non soddisfate il nostro egoismo? Guida. Esatto.